Non credo che noi dobbiamo rincorrere quello che fanno necessariamente altri paesi. Il governatore delle Marche è contrario alla soluzione Macron. Francesco Acquaroli è intervenuto a Stasera Italia su Rete4 per chiarire la situazione dei contagi e la posizione della regione sul tema dell'obbligo del Green Pass. Infatti il presidente francese ha lanciato non solo la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario, ma anche il Green Pass per accedere ai mezzi di trasporto e nei luoghi di socialità, come ristoranti, bar, eventi, treni e aerei. Un'idea, quella di imporre la carta verde per usufruire di alcuni servizi, che in Italia ha scatenato molte polemiche. In questo momento la vaccinazione nel nostro paese sta continuando molto bene. Ad esempio nelle Marche abbiamo praticamente raggiunto quasi un milione di prime dosi su un milione e mezza di abitanti e di cittadini residenti e facciamo ancora 14.000 dosi al giorno. Anche i ricoveri per Covid, ha proseguito il governatore, sono sotto controllo e la media dei positivi settimanali ha ribadito di 14 su 100.000 abitanti quando la zona gialla scatta sopra i 50. Stiamo continuando la campagna di vaccinazione ed ora credo che ci siano altre priorità rispetto al Green Pass. È più importante occuparsi di altro per non creare allarme, ha detto Acquaroli. Il contesto in cui oggi viviamo ci deve portare a continuare a monitorare la situazione, a fare i tracciamenti e a rispettare le regole che sono essenziali per uscire dalla crisi pandemica. Ma non dobbiamo inseguire modelli imposti da altri paesi, magari perché avevano una campagna vaccinale che non decollava o sacche di resistenza. Bisogna essere pragmatici. Il mio pensiero personale, come dicevano prima altri ospiti della serata, quando si toccano delle libertà individuali e personali, anche garantite dalla Costituzione, penso che bisogna essere sempre molto attenti e cauti.